Tutti, 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 venite, venite. Vedetevi pure in fila indiana. Non sei contento che stai dietro di me? Allora facciamo così, guarda. Per favore, perché... Io sono le mie gà. Peppe, tu devi venire. Per cortesia, per cortesia. Volete stare fermi? Vedi che stiamo facendo le cusarelle? Così, vuoi stare qua? Sì, ma piano. Hai scelto tu, eh? E' una scelta autonoma. E' un metro, ma piano tu? Allora, cominciamo. Ma non possiamo fare un uomo, una donna, un procopio? Proviamo così, io ve lo tengo e voi vi avvicinate tutto insieme, va bene? Ah, ok. Dai, dai! Dai, dai, dai! Non si rompe. Piagli, ce la fai a farne un'altra? No, giù, giù, giù. Noi siamo, come con giù, giù, giù. Sei forte. Ah, che sei forte. Vieni, viene lui. Come volete, anche abbracciarvi. Ma dai, che schifo, no? Ah, la faccia, la faccia! Ma, viaggio! Viaggio! Oh! Che è successo? String! String! Vai, viaggio! Sei forte, sei forte. Sei forte, sei forte. Sei bravo. Vai Giuseppe, con Samira, prego. Oh, bellissimo. Salutiamo la fidanzata di Giuseppe. Piano, per favore. Ciao! Ma è una cosa, è una cosa in amicizia. Cioè, ricordiamole che è solo un gioco. Piano, per favore. Anche il fidanzato di Samira, salutiamo. Anche il fidanzato di Samira, ovviamente. Ciao, sto qua! Ciao! Ciao! Ciao, sto qua! Ciao, sto qua! Ciao, sto qua! Ti dispiace se faccio questa cosa con te? Vai, vai tranquillo, vai tranquillo! Non sei geloso! No! No, no. Ma perché quando fai il fidanzato? Perché devo fare un bollo. Vai! Prego! Vai, vai! Vieni tu, vieni tu! Vieni tu! No, lì no, c'è la faccia! Qua, 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 qua! Vai, Sammy! Vai, ti afferro! Girati di là! E' troppo giovane! E' troppo giovane! No, non ci scoppia! Non ci scoppia! Non ci scoppia, dovete cambiare! Eh, però vedi! No! 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 La forza della natura che vince sempre! Ne vuoi un altro? Ne vuoi un altro? Bravo! Adesso Peppe ed Herbert! Vai, Herbert è carino! Vai! Ma Peppe perché sei lontano? Non mi fate impressionare dal colore! Non mi fate impressionare dal colore! Vieni! Non mi fate impressionare dal colore! Vieni! Vai, vai! Ho Peppe! Vai! Con la testa! No! 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 Dai! Ma che fa? Mi fai scendendo! Allora! Oh! Oh! Vai! Oh! Vai! Con la testa! Ah! Non finisce più! Dai, preoccupi! È Peppe! Dai, sulla costa! No! Allora! Girati! No! Senza confidenza! Se lo dobbiamo fare, non voglio guardare! Ok! Siamo! Vai! Ah! Perché adesso con Bianca fai senza gilet! Eccetto! Amore! 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 Ok! Scusate! Questo è un omaggio che facciamo al grande Piero Angela! dal quale facciamo un grande apparello! E alla sua storica, il suo storico programma Quark! Assisteremo all'incontro tra una donna e un Procopio! Continuiamo a giocare? Sì! Sì! Dai! Ma solo dopo la pubblicità! Non cambiate canale! Ci vediamo tra pochissimi, sì! A stasera tutto è possibile! Ben tornati a stasera tutto è possibile! Allora! Procopio! Maschio latino! Sì! Non mi va che guardino le cose! No! Ma solo... Ce la fai con questa? Eh! Io con qualsiasi! Facciamo la tecnica nostra! Vai! Vai! Nooo! Mamma mia! Che paura! Oh! 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 Aspetta! 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 Facciamolo! Voglio provare una cosa! Dove va? Bravo! Dai! Bravi eh! Si vede che stanno insieme davvero! Allora chi si sente? Mettetevi in fila! Qual è la coppia che si sente di fare quest'ultimo? Nooo! Io prendo lo strappo! Che devo fare? Procopio? Eh! Vai! Scegli di... Scegli di un... Scegli di un compagno! Scegli di un compagno! Scegli di un compagno! Peppe Iundice! Peppe Iundice! Peppe Iundice! Nooo! Già mi sono fatto male l'altra volta! Eh! Proviamo! A me va la rana! A me sul gioco mi sta cominciando a andare! Stai scelto! Ma perché mi scelta messa che è? Ehi! Ehi! Ma perché lui urla sempre? Così! Poi quando mi guarda... Perché i boss sono del boss! Vai! Gioca! Gioca! Ma non la mettono nel boss! Piano piano! Dai! Senti! No! Questa è l'altro! Tre l'arecchia! Vai! Oh! 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 Stasera tutto eh! Senti! Senti! La unica La storia! La storia! Buongiorno! Grazie a tutti.